La musica è un certo arrangiamento di suoni. Se arrangi i suoni in un certo modo, diventerà rumore. Se arrangi i suoni in un modo diverso, diventerà musica. C'è tanto rumore che passa per musica adesso, ok? Se sai qualcosa di musica classica, vedrai che dietro alla musica classica c'è un'enorme quantità di matematica. C'è una struttura, una struttura matematica è stata costruita. Per quanto mi riguarda, quando vedo qualcuno davvero bravo a cantare, per me ne emerge tutta una geometria. Quindi in qualche modo stai cercando di ricreare la creazione in una forma sonora. Quanto profondamente un particolare musicista, quanto in là si può spingere è discutibile. Ma questo è ciò che cerchi di fare. Stai cercando di esplorare gli schemi geometrici. Tutti i complessi schemi che sono possibili sotto forma di creazione. Perché la creazione è solo un complesso amalgama di suoni o riverberi. Quindi sicuramente sai, lascia stare le parole. Voglio dire, se ci sono parole sdolcinate e la gente diventa un po' sdolcinata per questo, è diverso. Gli stanno dando dei significati. Senza nessuna parola, la musica può suscitare lacrime, può suscitare gioia, può suscitare amore. La musica può generare stati d'animo, emozioni ed esperienze nelle persone. Con il semplice suono, senza usare parole. Parole significa è un modello psicologico. Suono significa è un modello esistenziale. Quindi ecco perché una musica senza parole è molto significativa. E la maggior parte della musica indiana è in gran parte suono. Qua e là alcune parole, ma in gran parte suono. Perché il suono è una struttura esistenziale. La parola, il significato della parola è una struttura psicologica. Se diciamo, canto una canzone in Tamil, non significa nulla per te, perché potresti non capire la lingua. Se canti in qualche altra lingua che non conosco, non significa nulla per me, perché non ne capisco il significato. Ma la natura del suono non è così. Se il suono è organizzato in una particolare geometria di cose, non importa chi sei. Non ti prende nella tua emozione. Ti prende nell'essere stesso che sei. Nel modo fondamentale in cui questa creazione è accaduta qui. Quindi è un tentativo di toccare la vita. È un tentativo di imitare la vita in una forma diversa. Il che è una cosa fenomenale. La gente diventerà sana e starà bene con questo? Sicuramente sì, se trovi il tono giusto.